di AndroidBlock.it, test registrazione video in full HD con la camera da 21 megapixel del Motorola Moto X Play provo a fare un cambiamento di messa a fuoco sulla pianta, messa a fuoco automatica, non vi è la possibilità di tappare manualmente qui andiamo subito a vedere un controluce dalla camera di questo dispositivo stranamente sul display, o meglio sul touchscreen, non vi è la possibilità di fare uno zoom ma sembra esserci un bug in questa camera che non mi permette di zoomare in avanti durante la registrazione video per cui non riuscirò, vedete, molto a rilento e anzi non risponde perfettamente ai comandi l'interfaccia fotocamera anche perché sembra essere un piccolo problemino a livello software peccato perché comunque la qualità dell'immagine è anche abbastanza buona faccio anche un rapido pan per vedere come si stabilizza il video provo un altro cambiamento di messa a fuoco sulla mia classica piantina di test vedete, messa a fuoco veramente velocissima per cui vi ricordo video in full HD con Moto X Play